daremo un altro schiaffo al campionato e metteremo molta più pressione al napoli che poi giocherà domenica contro la fiorentina in casa non dovrebbe avere tanti problemi e comunque vincere a napoli vincere in casa con l'inter un po di pressione agli avversari la metteremo poi bisogna vedere l'inter se perde come reagisce se vince invece o pareggia può essere su anno quest'anno la roma grande al tecnico eusebio di francesco vedi tutti i tecnici italiani inutile facciamo cioè inutile inutile dire murigno simulini per carità guardiola per carità però ragazzi tecnici italiani conte ha vinto in premier league al suo primo anno angelotti quest'anno è stato esonerato ma non possiamo stare però col bayern monaco ha vinto il campionato col celsi ha vinto il campionato ha vinto le champions carletto col bayern anche carriera vinto il campionato russo al suo primo anno vedi poi ci sono tre tecnici italiani allegri spalletti di francesco sarri sono quattro quindi io credo che la scuola italiana a livello tecnico sia ancora la migliore nel mondo in europa a livello di allenatori purtroppo la nazionale siamo fuori io stavo a san siro 0 0 della svezia e si vedeva che era una nazionale si sentiva più che altro che non nazionale senza allenatore perché uno che tiene fuori 90 minuti un certo lorenzo in signe raga vai allenare in papu asia c'è possibile c'è proprio quest'estate davvero che dobbiamo fare dobbiamo vedere panama costa rica dai poi uno diceva dove il mondiale che ti che devo ti fa che devo ti fa che devo ti fa per il panama magari faccio tre partite poi me ne vado a mare dopo 60 anni siamo fuori da mondiale ma chiudiamo stiamo parlando di champions bene è passato il manchester united è passato il basilea che neanche me lo aspettavo cioè si è normale barcellona normale amministrazione che passasse dunque tottenham e real madrid già sono passate e manchester city è passato ha dominato il proprio girone come era auspicabile vincendo tutte le partite credo che vincerà anche stasera 2 a 1 giocata e il signor starling e comunque il napoli vincerà quindi credo che si qualifichi alla fine anche perché tra shaktar e napoli gli ottavi lo shaktar se prenderà una delle prime che sono arrivate prenderà cinque se vuole essere andrà a casa c'è napoli purtroppo ha sbagliato la partita d'andata donna stavo parlando di altro stavo parlando di sei squadre su sei qualificate nei rispettivi nelle rispettive coppe nel prossimo step che sono i sedicesimi d'europa league per lazio milan e atalanta agli ottavi per juve napoli e rome detto questo vediamo domani se avrò avuto ragione oppure no ci sentiamo domani questa è la mia pagina youtube vorrei salutare un attimo i miei amici napoletani gli augurano in bocca lupo sincero stasera anche perché mio fratello sarà a rotterdam a vedersi la partita quindi non vorrei riconsolarlo come ho fatto sabato e ricordate io sono campano quindi non mi chiamare rinnegato perché io della mia terra ne vado fiero eppure poi pure pulcinella era bianco nero quindi ciao stasera solo per stasera forza napoli